Sono Davide Vanni, broker della Remax Live di Certoso di Pavia. Ho deciso di partecipare a questo corso con Simone Rossi con delle aspettative in quanto stavo giusto in questo periodo avendo la necessità di una spinta nuova. Oggi Simone ha parlato del cambio di paradigmi. Ho ricevuto una sberla, come ha detto lui, uno dei sistemi per togliere un paradigma e sostituirlo con altro si è ricevuto uno shock. Io arrivo proprio da questo momento e la capacità di Simone di essere concreto e andare a puntare proprio sulle situazioni e le necessità delle attività da mettere in atto giorno dopo giorno che è un altro dei sistemi per sostituire il paradigma, quindi esercitarsi giorno dopo giorno mi ha già dato degli spunti molto importanti per andare a sostituire un paradigma sbagliato con delle nuove attività e sostituirlo con un paradigma corretto che mi porterà a un risultato che ancora ad oggi non ho ancora avuto modo di raggiungere ma che sono sicuro che grazie a questi spunti di Simone riuscirò a raggiungere nel prossimo periodo. Ciao, io sono Luciano Mondello dell'Remax Fides. È la prima volta che partecipo a un corso di Simone e sono molto 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 soddisfatta. Simone mette in luce delle problematiche e dei tabù che abbiamo un po' tutti quanti a volte che riconosciamo e a volte che non sappiamo neanche di avere e quindi devo dire che questo corso è una bella sferzata e dà molta energia e aiuto a proponizzare il mondo. Grazie, grazie. Grazie Simone. Il motivo di questo corso è per cui sono qua e cercare di uscire nella mia zona di comfort sia lavorativa che personale anche perché penso che vadano in simbiosi e sicuramente l'input e Simone dà degli input e delle motivazioni per cui è importante fare questo e cercare degli obiettivi e quindi penso che questo corso sicuramente ti apre la mente per avere visioni diverse e aiutarti davvero a uscire nella propria zona di comfort. Penso e spero, anzi sono sicura che questo corso sarà utile e potrebbe essere anche un buon inizio per un programma di crescita personale lavorativa e lo consiglio a tutti assolutamente e consiglio di andare oltre, sempre oltre in tutto. Grazie Simone e grazie a Remax. Allora io seguendo il corso Mindset di Simone Rossi devo dire che la cosa che mi sta impressionando particolarmente è che pur essendo una persona con una bassa soglia di attenzione il tempo passa, si recepisce ogni singolo argomento che viene esposto da lui in modo molto fluido e non te ne accorgi. E la cosa che sicuramente dà tantissimo questo corso è una fortissima motivazione veramente una grande motivazione e sono colpito dal fatto che una persona riesca a mantenere così tanta interazione senza annoiare quando la maggior parte dei corsi che purtroppo ad oggi vengono offerti anche a pagamento non riescono a dare questo livello così alto con così tanta semplicità, con parole molto semplici, quindi consiglio assolutamente a chiunque ne avesse l'occasione e la possibilità di seguire un corso con lui perché ti arricchisce sia a livello lavorativo che moltissimo secondo me anche a livello umano. Allora, quello che voglio dire, vabbè, innanzitutto Simone Rossi è un grande, apprezzo molto il suo voler spiegare agli altri come fare l'agente immobiliare e come non prendere spunto. La cosa che però mi ha colpito maggiormente avendolo seguito sui social, su YouTube da tempo e da un po' che lo sto seguendo mi piace molto il suo essere cambiato come personalità, apprezzo tanto il suo modo di porsi, l'essere più empatico con gli altri non avevo apprezzato sui social questo modo di fare così con simpatia e coinvolgente secondo me ha cambiato molto la sua personalità e adesso ha chiuso proprio il cerchio, il top, grazie Simone Consiglio il corso Mindset Revolution di Simone Rossi perché innanzitutto i suoi contenuti sono sempre di enorme valore Simone per quanto mi riguarda, per quello che penso è una ricchezza del nostro mercato immobiliare, del nostro settore e questo corso nello specifico credo che faccia capire quanto sia importante avere un mindset di un certo tipo per poter affrontare il nostro lavoro nella miglior posizione possibile quindi consiglio a tutti di seguirlo perché vi darà sicuramente degli spunti molto interessanti Sono qui questa mattina al corso di Simone Rossi in sede qui a Milano e un corso sul Mindset approccio mentale, vogliamo dirlo anche in italiano, approccio a quello che è il metodo lavorativo approccio a noi stessi stamattina quando Simone parlava soprattutto dei famosi due gradini della sua vecchia agenzia mi sono immedesimata molto in mie personali situazioni e cavolo sì, se c'è da cambiare qualcosa nel Mindset questo è da farsi proprio per evitare di risedersi su quei due gradini e salire un'intera scala quindi mi auguro che il corso di oggi porti proprio a questo